l'angolo cattivo ciao ragazzi benvenuti sul canale board game se vi intorni e in questo video breve voglio parlarvi di un'idea che mi è venuta ovvero quella di fare una serie di video ben precisi che chiamerò con un nome farò una intro particolare chiamata l'angolo cattivo cosa fanno questi video saranno dei video brevi di pochi minuti non più di 10 sicuro se non mi taglio da solo dove andrò a colpire nel vivo nei punti a mio avviso che sono state molto molto critici per me di alcuni giochi pochi che ho perché se mantengo un gioco di solito questi punti critici non ce li ha ma soprattutto di molti giochi che ho venduto o che non ho venduto che non ho avuto intenzione di prendere quasi questo tipo quindi sarà un qualcosa dove vi dirò del perché magari un prodotto non me ne sono disfatto l'ho dato via o ce l'ho ma è sulla strada per essere mollato venduto messo smergatino o che altro non tutti quelli che ho venduto hanno questi punti critici alcuni li ho venduti perché comunque mi piacevano magari li prenderò in futuro ma mi serve a spazio o soldi però alcuni ce li hanno questi punti critici li hanno gli hanno avuti quindi non lo so spero che possa essere divertente una roba di questo tipo saranno video un po ironici sono video da prendere in maniera intelligente capire un attimino sono video dove io andrò un po oltre le righe quindi sarà un po più estremizzato nel mio nella mia esposizione video magari dove chi lo sa magari cadrò anche nel volgare con qualche parolaccia ma non lo so sinceramente sto ipotizzando e vediamo un po se questa cosa vi può piacere o meno a me pareva una idea carina venuta ieri notte vedremo farò il primo presto e poi direte voi se vi piace una chiamala rubrica di questo tipo ciao a tutti